Il 30 di novembre, una settimana esatta dal terribile terremoto che ha colpito l'Irpinia e la Basilicata con 9 gradi della scala Mercalli e seminando tanti morti, da Barletta partimmo io e mio fratello con le rispettive mogli con un carico di vivere di prima necessità dati, donati dalla città di Barletta. Praticamente portammo il cuore di Barletta, però quella mattina quando arrivamo lì ci accorgemmo che eravamo i primi a soccorrere quelli del rione Sorbo da dove riportammo dopo la scossa del 30 novembre alle ore 11 di mattina otto bambini e le rispettive mamme a Barletta. C'è una storia di infinita generosità che si cela dietro il rapporto fraterno esistente fra le città di Barletta e Montella, un legame profondo instaurato 38 anni fa dopo il terremoto che ha colpito e devastato l'Irpinia. Un rapporto che è stato rinsaldato con la presentazione avvenuta presso la Sala Rossa del Castello Svevo di Barletta del primo calendario storico dell'Unimri, patrocinato proprio dalle due città. Un almanacco del 2019 che ripercorre le onorificenze, i gesti di generosità, le ricorrenze celebrate, le azioni di cuore messe in campo dalla locale sezione dell'Unione Nazionale insegnite al merito della Repubblica Italiana. Un atto nei confronti per far conoscere sia alla stampa e sia alla cittadinanza e sia anche alle forze dell'ordine, questo calendario in cui rappresenta tutti gli avvenimenti che abbiamo fatto durante l'anno scorso e che presenteremo per l'anno 2019, tutte quelle manifestazioni, atti di cuore che noi abbiamo fatto come associazione. Non solo manifestazioni celebrate e atti di generosità da rintracciare e sfogliare fra le pagine con i mesi e i giorni del 2019, il calendario storico infatti descrive anche il rapporto indissolubile esistente fra le città di Barletta e Montella. Montella è un paese di 8 mila anime e che raccoglie addirittura 5 medaglie d'oro, quindi perché no Montella e Barletta che è la città più decorata d'Italia e quindi noi oggi ci faremo anche promotori alla presenza dell'amministrazione comunale di Barletta per far sì che si instauri un rapporto anche futuro di un gemellaggio comune.